Ecco l'entrata in campo delle due formazioni, Virtus Castelfrentano, Citerius San Valentino, valevole per la diciannovesima gara di campionato seconda categoria, girone C. Ecco c'è la scelta del campo, i nostri ragazzi, i nostri baldi calciatori, arbitraria in conto il signor Matteo Gian Cristoforo della sezione Aia di Lanciano. Ecco i giocatori della Citerius che vanno a salutare gli avversari che partiranno dalla panchina. Il pubblico presente. Ecco qua gli Ultras, a questo lato c'è gli Ultras capeggiati da mister Nicola. Grazie.